E adesso Luigi Di Maio Nato ad Avellino ma cresciuto a Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli qui nel 2004 Di Maio si diploma presso il liceo classico Vittorio Imbriani giornalista pubblicista dal 2007 segue da vicino la nascita del Movimento 5 Stelle di cui diventa rapidamente uno dei volti più novi eletto deputato nel 2013 sale direttamente ai piani alti diventando a 26 anni il più giovane vicepresidente della Camera anche Forbes la prestigiosa rivista americana di economia e finanza lo inserisce tra gli under 30 più influenti d'Europa membro del direttorio creato da Grillo nel novembre 2014 Di Maio è il plenipotenziario che rappresenta i pentastellati ai tavoli delle trattative da poco single dopo aver vinto le primarie del suo partito con 30.936 voti si presenta agli elettori come candidato premier Bentornato a Luigi Di Maio Buonasera Allora, lei ieri ha presentato il suo governo il suo governo è un governo fatto di professionisti quindi non c'è nessun militante diciamo del Movimento 5 Stelle è un governo tecnico perché dice questo si intende di questo, quest'altro si intende di quest'altro ma storicamente i governi tecnici non hanno funzionato perché in genere i ministri tecnici sono competenti nella loro materia ma non conoscono la società e quindi insomma non sono andati Ed è per questo che non condivido la definizione di governo tecnico prima di tutto perché questa squadra ha una guida politica che sono io nei governi tecnici la guida ce l'ha un tecnico e il problema è proprio quello che diceva lei non c'è umanità, non c'è sensibilità rispetto a quelle che sono le dinamiche della società le persone che ho scelto nella squadra di governo sono invece persone che mettono testa e cuore in ogni cosa che fanno anche il nostro ministro della sanità, della salute che ho proposto è un medico ospedaliero che lavora al Sant'Andrea di Roma ma è uno scienziato di fama internazionale perché ha scoperto uno strumento, una diagnosi per la tiroide che viene utilizzata in tutto il mondo ma non è detto che sappia impostare una politica sanitaria poi magari lui sarà bravissimo è una persona che ha dimostrato nella sua carriera grandi capacità manageriali una grande sensibilità verso la scienza ma soprattutto è uno che sta negli ospedali ogni giorno e sa qual è il grande problema infatti quando ho conosciuto Armando Bartolazzi gli ho detto guarda insieme dobbiamo fare prima di tutto una cosa togliere la possibilità ai politici di nominare i manager della sanità questo è un esempio ma ce ne sono tanti altri e ieri non li ho neanche individuati che già sono stati attaccati poi gli autogol che fanno i partiti l'attuale ministro Madia della pubblica amministrazione ha attaccato il mio candidato ministro della pubblica amministrazione è come se già stesse parlando con un ministro e questo ci ha dato una grandissima occasione in questi giorni di far conoscere delle eccellenze all'economia ho scelto Andrea Roventini che viene dalla Sant'Anna di Pisa e ha l'età di Macron ma già scrive con premi Nobel ed è il top 10% di tutti gli economisti a livello mondiale ma soprattutto è una persona che ha fatto progetti con la Commissione Europea per cambiare i modelli economici e cominciare a fare l'economia espansiva gli ho scelti, usa la prima persona non si è consultato con Grillo e con Casaleggio? no perché in questo caso come avviene ormai da tempo io a settembre sono stato individuato capo politico e candidato premier del Movimento 5 Stelle tra le mie facoltà c'era quella di formare una squadra di governo prima delle elezioni io sono molto contento perché abbiamo mantenuto tutte le promesse in questa campagna avevamo detto che presentavamo un candidato premier dei candidati ministri un programma, le coperture economiche e una lista senza accozzaglie di liste e oggi ci presentiamo agli italiani come l'unica forza politica che si può votare a carta e scoperta, in maniera trasparente io non ho capito ancora chi sia uno uno il candidato premier della coalizione centrodestra perché ne hanno tre o quattro e nel centro-sinistra ho sentito che oggi Renzi si è ritirato evidentemente perché ha detto faccio andare avanti altri perché sanno che è già finita ma a Grillo l'ha scoperto l'agenzia di stampa ieri ho avuto modo di farglieli salutare è venuto a conoscerli si è chiaro, io e Grillo ci sentiamo sempre però come ho sempre detto questa era una prerogativa che aspettava a me e quindi l'ho portata avanti senta, questo governo prevede dei vicepresidenti del Consiglio? sì, anzi le do una notizia io ho intenzione di individuare come vicepresidente del Consiglio dei Ministri quella persona che io ho già individuato per il Ministero della Difesa che è la dottoressa Elisabetta Trenta perché scelgo lei? perché Elisabetta Trenta è una servitrice dello Stato è stata consulente siccome dirige due master in intelligence e in difesa lei è stata consulente del nostro contingente italiano in Iraq e in Libano è stata l'interfaccia con i civili tra i civili e i nostri operatori dei nostri operatori militari in quelle zone ma soprattutto conosce il valore del servire lo Stato lei ha detto nella mia esperienza a Nasseria ha avuto modo di capire quanto grande sia l'Italia e quanto ci si possa sentire orgogliosi di essere italiani ecco, una donna servitrice dello Stato che conosce il valore della bandiera il valore del rappresentare la nazione è la miglior vicepresidente del Consiglio dei Ministri che si possa avere ci sono delle analogie curiose nel senso, le sue candidate, tre misteri chiave interni, esteri e difesa vengono tutte lavorate per l'Università Telematica di Enzo Scotti che è stato un importante ministro dell'interno democristiano quindi c'è questa filiazione queste sono tre professionalità la professoressa del Re la nostra ministra degli esteri la professoressa Paola Giannetakis all'interno e Elisabetta Trenta, come dicevo prima, alla difesa sono tre professionalità che tra le altre cose collaborano con quell'università ma ognuna di loro è stata sul campo la nostra ministra dell'interno ha collaborato con le nostre forze di polizia perché è un'esperta di cyber sicurezza e anche un'esperta di intelligence la nostra ministra degli esteri ha avuto rapporti con il ministero degli esteri ha lavorato anche con il ministero degli esteri ma soprattutto è stata negli scenari di guerra come quello siriano, come quello nordafricano, sudafricano in questi casi queste persone non sono solo accademiche è quello che dicevo prima mettono testa perché conoscono il settore di cui si occupano ma soprattutto sono state sul campo come Elisabetta Trenta che è stata negli scenari peggiori dal punto di vista dei conflitti nel mondo soprattutto in Medio Oriente Dica la verità lei non sapeva che Giuliano candidato ministro della pubblica istruzione aveva collaborato effettivamente alla stesura della buona scuola e soprattutto in una manifestazione diceva Presidente Renzi Presidente Renzi la scuola è con lei va davanti io non capisco di cosa ci rischia no lo sapeva o non lo sapeva? ma come non lo sapeva? le pare che io prendo un ministro e non so vita, morte e miracoli di questo ministro ma oddio di qualche candidato non lo sapeva su 730 candidati 10 mi hanno detto una bugia bene ma qui ho dovuto scegliere una squadra di 17 ministri immaginerà che non è solo che le ho trovate all'ultimo momento non è così li conoscevo e io Salvatore Giuliano l'ho scelto anche per una cosa perché lui ha partecipato al cantiere della buona scuola che poi però quando è stata fatta la buona scuola si è reso conto che del cantiere non c'era niente cioè loro avevano messo insieme gli esperti avevano fatto un progetto loro quelli del PD e poi l'avevano stravolto il presidente della scuola è con lei Salvatore Giuliano fa parte fa parte di uno di quelli che in Italia avevano creduto nella rottamazione di Matteo Renzi in Matteo Renzi Matteo Renzi per un periodo ha avuto il 40% aveva l'Italia in mano poi ha deluso tutti perché tra parole e fatti c'era uno spread enorme oggi perché ho deciso di individuarlo come ministro dell'istruzione perché è un dirigente scolastico contro la buona scuola quindi non solo gli insegnanti ma anche i dirigenti sono stati danneggiati da quella scuola da quella legge ma soprattutto sarà il ministro che abolirà la buona scuola e questa è la prima richiesta che gli ho fatto quando gli ho fatto la proposta di fare il ministro con noi insomma una conversione alla San Paolo clamorosa ma no ma perché un operatore della scuola che subisce una riforma come la buona scuola stravolta rispetto a quelli che erano le premesse è una persona che maneggiando una riforma si rende conto e ha testimonianza del fatto che non sta funzionando lo voglio dire a tutti gli insegnanti che per un algoritmo sono stati sparati in giro per l'Italia mandati al nord noi la elimineremo quella legge nelle parti soprattutto che stanno rendendo un inferno la vita di insegnanti e studenti allora come con gli altri ospiti noi avremo oggi due direttori di grande dei giornali Luciano Fontana che viene la sera Maurizio Modinari la stampa allora l'altro buonasera Luciano Fontana è appena uscito con un libro per longanesi un paese senza leader storia protagonista e retroscena di una classe politica classe politica in crisi in cui si parla anche di Di Maio insomma ne parlo a lungo si ne parla a lungo di Di Maio allora prego intanto buonasera buonasera a lei volevo partire subito per andare un po' agli scenari del dopo voto non le sembra un po' non tanto giusto non dichiarare che se non c'è una maggioranza se non avrà la maggioranza dei seggi in Parlamento quali sono le forze politiche con cui il Movimento 5 Stelle può ragionare ad esempio la Lega è un soggetto possibile di un'alleanza c'è una comunanza di programmi che può far prevedere una maggioranza di governo di questo genere guardi io fino a qualche tempo fa ho parlato a lungo dell'idea di una convergenza sui temi il giorno dopo le elezioni dopo quello che sto ascoltando in giro per il paese nell'ultima settimana e anche dai fuorionda del centrodestra sto realizzando che se il Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali fa un buon risultato soprattutto al sud può raggiungere anche la maggioranza assoluta e lo dico con cognizione di causa perché vorrei dire una cosa agli italiani che ci ascoltano nel collegio uninominale anche un voto in più al Movimento 5 Stelle può decidere il futuro dell'Italia il centrosinistra è fuori combattimento e lo sappiamo il centrodestra e il Movimento 5 Stelle sono nei testa a testa soprattutto nei collegi uninominali del centro sud allora scegliere di votare una brava persona che sta nel centrosinistra perché magari il farmacista della città o il dottore stimato significa sprecare il proprio voto dare un voto a noi significa evitare che partiti come quello di Salvini della Meloni di Berlusconi per interposta persona abbiano un peso nel futuro Parlamento io non credo che loro riusciranno ad arrivare alla maggioranza assoluta ma vorrei responsabilizzare i cittadini nel far capire che un voto in più nel collegio uninominale farà la differenza però lei non ha risposto alla domanda di Fontana è difficile che qualcuno possa raggiungere la maggioranza assoluta a quel punto bisogna vedere che cosa succede è un'ipotesi anche per correttezza nei confronti degli elettori e io sono stato l'unico in questa campagna a parlare tutto il tempo di un'ipotesi che poteva essere affrontata ma non di alleanze attenzione di convergenze io ho parlato riusciamo un vecchio linguaggio democristiano convergenze parallele vi piace? no convergenze parallele no io ho sempre detto che speriamo di poter raggiungere la maggioranza assoluta se non dovesse esserci questo in ogni caso il risultato del Movimento 5 Stelle impedirà Forza Italia e PD di mettersi insieme e fare 51% perché oggi i numeri non li hanno più quindi quindi la sera delle elezioni stante il fatto che io la squadra di governo l'ho presentata prima e di scambio di poltrone non se ne parla oggi qui a Porta a Porta abbiamo individuato anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri la vicepresidente facciamo un appello pubblico e dico a tutti i gruppi se volete collaborare per creare la diciottesima legislatura allora diteci quali sono i vostri temi prioritari io vi dico i nostri dopodiché siccome non mi fido di voi mettiamo nero su bianco il programma dei lavori della diciottesima legislatura data il provvedimento da approvare e iniziamo a lavorare e non ha preferenze questo è l'unica mia disponibilità partendo dal fatto che io di quella gente non mi fido chi risponderà vedremo che temi porterà ma l'importante è che se siamo noi a dare le carte su questo tema allora dobbiamo cambiare anche il metodo si deve cominciare a lavorare per quelli fuori dai palazzi e non per quelli dentro dai palazzi però voglio dire lei non fa preclusioni io le dico che se Leo piuttosto che Salvini piuttosto che Berlusconi io ho preclusioni verso tutti perché non mi figlio preclusioni però tutti mi devono venire a dire i temi che vogliono affrontare non gli scambi di poltrona vieni Renzo vieni Berlusconi vieni una e dici va bene Dimai io parliamo tu vuoi fare questo io volevo fare questo mettiamoci d'accordo e per un po' facciamo questo e questo devono essere temi in linea con i valori del Movimento 5 Stelle e di quello che abbiamo portato avanti in tutti questi anni sia chiaro buonasera lei ha nominato i ministri e ha dato una grande immagine di decisione incisività e ha informato il Quirinale con un email ora noi sappiamo che l'articolo 92 della Costituzione dice che è il capo dello Stato che nomina i ministri non crede di aver come dire mancato da un punto di vista istituzionale cioè può dare la garanzia a chi ci ascolta che il suo partito se vincerà le elezioni rispetterà le istituzioni le garanzie istituzionali la Costituzione e non tenterà di forzare perché l'impressione se mi posso permettere anche quello che ci ha appena detto io ho nominato i ministri non faccio compromessi con nessuno cioè noi siamo qui governiamo e gli altri ci seguono vuol dire è qualcosa che si adatta male alla tradizione della democrazia parlamentare guardi la mia visita al segretario generale del Quirinale quando io ho chiesto un appuntamento la settimana scorsa lei l'ha chiesto a lui o a Mattarella io ho chiesto direttamente al segretario Zampetti non mi permetterei mai oggi di chiedere un appuntamento al Presidente della Repubblica in una fase finale di campagna elettorale so bene che il segretario generale è l'interfaccia col Quirinale soprattutto per una questione di cortesia ho chiesto quell'appuntamento per dire guardate io sto per fare una proposta di squadra di governo questa settimana conclusiva della campagna elettorale nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione che dice chiaramente come diceva lei direttore che il Presidente della Repubblica nomine ai ministri su proposta del Presidente del Consiglio incaricato questa proposta noi la facciamo prima delle elezioni perché l'avevamo promesso e perché vogliamo far votare i cittadini a carte scoperte non a scatola chiusa ho informato il Quirinale attraverso il segretario generale senza aspettarmi nessuna risposta e poi ho inviato l'elenco come avevo preannunciato prima di iniziare a fare i nomi questo proprio per una questione di cortesia legato a quello che diceva lei l'articolo 92 e non mi non mi permetterei mai di strumentalizzare il Quirinale anche perché l'ho detto più volte io credo che siamo fortunati di avere il Presidente Mattarella in questa fase storica perché da lunedì sarà impegnato e saprà lui cosa deve fare per riuscire a garantire la stabilità delle istituzioni e a garantire la Costituzione però dal mio punto di vista credo che si debba riconoscere al Movimento 5 Stelle che ha avuto le idee chiare anche sul patrimonio umano su cui investire io avevo sentito Berlusconi tre mesi fa dire presenterò una squadra di governo poi ha detto ho contattato un po' di imprenditori ma non mi hanno detto sì perché sono preoccupati sono preoccupati vent'anni Presidente del Consiglio dei Ministri non sei in grado di mettere insieme una squadra prima l'avevi detto anche tu su questo noi siamo stati molto più chiari e chiedo ai cittadini quindi di votare la chiarezza e non il caos del centrodestra che litiga dalla mattina e dalla sera però lei sa bene che il capo dello Stato fino a subito dopo le elezioni è cieco non guarda non deve guardare non deve vedere dopo dopo Dottor Vespa lei può chiedere anche avrà sicuramente la possibilità di informarsi io non mi sono mai permesso di chiedere al Presidente della Repubblica un parere su quei nomi conosco bene le prerogative e la funzione no perché in alcuni anche in dettagli giornali in questi giorni Mattarella non risponde è logico che Mattarella non risponde io ho fatto un atto di cortesia nel fargli avere i nomi prima di renderli pubblici io volevo chiederle restando alla selezione dei vostri parlamentari e dei vostri ministri nella precedente legislatura come lei sa un bel folto gruppo di parlamentari elettri con i 5 stelle si è sparso per altri eliti diciamo diciamo così adesso partite già con una tra i 10 e i 15 parlamentari a cui avete chiesto le dimissioni probabilmente alcuni hanno già detto che non lo faranno qualcuno è stato zitto ma che lo faccia è molto abbiamo diversi dubbi lei è sicuro di aver fatto una selezione attenta del gruppo parlamentare soprattutto i vostri meccanismi affidati in questo modo sono meccanismi utili per fare una classe dirigente affidabile e fare quei passi che lei vuole mettere in atto per il movimento io credo che abbiamo fatto un grande lavoro nella selezione delle liste perché abbiamo stabilito dei criteri molto ferrei questi problemi le forze politiche tradizionali non li hanno avuti perché loro accettano condannati accettano massoni accettano tanti tipi di personaggi su oltre 700 candidati 10 non è che hanno violato la legge ci hanno detto delle bugie e noi mettiamo fuori non solo quelli che sono condannati che sono indagati per reati gravi ma addirittura mettiamo fuori i bugiardi ma è una leggenda metropolitana il fatto che noi partiamo da meno 14 perché di tutti quelli che abbiamo messo fuori al massimo ne sono sono in posizioni elegibili due o tre la maggioranza di queste persone mi ha già firmato una dichiarazione per cui rinuncia alla proclamazione e dichiara di dimettersi anche perché sa che se non lo farà io gli farò causa per danno di immagini di immagini al Movimento 5 Stelle ma deve essere chiara lei sa che la perde deve essere chiara lei sa che la perde perché c'è uno stilizzatore che dice che non c'è più quello di mandato noi stiamo vincendo io non so se perché le agenzie non le rilanciano alcune cose noi stiamo vincendo tutti i ricorsi contro il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle perché abbiamo fatto un nuovo statuto che fissa le regole chiare tutti i principi e in quei principi chi entra nel Movimento si impegna anche a non causare danni di immagini al Movimento 5 Stelle ma un'altra cosa importante se andiamo al governo una norma la dobbiamo fare e la prometto agli italiani che chi entra in Parlamento e cambia partito se ne torna a casa e non resta lì dentro a vendersi al miglior offere una riforma costituzionale sì dobbiamo cambiare due righe ma dobbiamo cominciare a farlo anche perché questa è stata la legislatura peggiore della storia un cambio di casacca ogni tre giorni a cui hanno contribuito come diceva il direttore anche alcuni dei nostri ex ma questo movimento che entrerà in Parlamento a questo giro spero nella maggioranza di governo sarà un movimento che non avrà quelle dinamiche di cinque anni fa abbiamo fatto una selezione in cui il 99,5% dei candidati è risultato pulito si è impegnato con regole ancora più ferre e si taglierà lo stipendio e rinuncerà al vitalizio come ho fatto io i ministri economici invece hanno una visione marcatamente di sinistra e quindi e sfondamento anche del tetto e tutto questo qualcuno dice di crescita felice che è un vecchio slogan del movimento 5 stelle tutto questo non è tranquillizzante per i mercati che oggi non hanno dato un segnale particolarmente positivo alla vigilia delle elezioni non solo per voi perché l'incertezza questa storia dei mercati credo che ormai lo sappiano anche i mercati dovevano fallire cinque banche dopo il no al referendum per come avevano detto alcuni giornaloni esteri dovevano esserci delle tempeste finanziarie quando ho incontrato gli investitori internazionali a Londra un mese fa mi hanno detto veramente dopo il no al referendum noi abbiamo i segnali positivi e quando gli ho chiesto come mai si fidavano allora di quelle stime dicevano bene noi basta e ci muoviamo in branco tutti quanti insieme così se sbagliamo sbagliamo tutti insieme bella soddisfazione ma detto questo deve essere chiara una cosa lei prima parlava del professor Roventini del professor Tridico e del professor Fioramonti che sono il nostro ministro dell'economia del lavoro e dello sviluppo economico queste tre persone coltivano un'idea di economia espansiva la decrescita l'abbiamo vissuta durante l'epoca dell'austerity in cui Padoan ma anche quelli prima di lui tagliavano dalla sanità dall'istruzione dal welfare e mettevano nella riduzione del debito pubblico che non si riduceva l'altro giorno ho visto Gentiloni esaltarsi per uno 0,01 in meno di debito pubblico quello che invece pensiamo noi è che è il momento di utilizzare risorse fresche sia dal taglio degli sprechi ma soprattutto anche da un piccolo investimento in deficit per fare cosa? Infrastrutture digitalizzazione ferrovie soprattutto in alcune regioni del sud Matera sarà capitale della cultura nel 2019 non ci arriva un treno in Sicilia ci sono stati tre mesi per la campagna ci sono autostrade da completare da vent'anni ma anche sul po' crollano i ponti mentre si costruisce la Brebemi in Lombardia che è un'opera inutile quello che dico è che la grande occasione con Andrea Roventini che tra l'altro viene alla Sant'Anna di Pisa e con lui lavorano cimoli dosi stiglitz che hanno portato avanti delle idee di economia espansiva è la grande occasione per dire basta all'austerity e iniziare una politica diversa lei deve sfondare il tetto del 3% probabilmente potrebbe anche non essercene bisogno nel senso che tagliati 30 miliardi di euro con il piano Cottarelli tagliati 20 miliardi di euro di detrazioni a petrolio banche e carbone forse una parte dovremmo prenderla in deficit ma questo aspettiamo anche che il candidato ministro Roventini si insedi al MEF acceda alla ragioneria generale dello Stato e alla tesoreria dello Stato e possa capire veramente come stanno i conti vorrei dire una cosa a tanti giovani che magari oggi votano un centro-sinistra che in questo momento è un voto inutile lo voglio dire nel nostro programma non ci sono idee di sinistro e di destra ma sicuramente nel nostro programma c'è un'idea come diceva lei di economia espansiva che la sinistra ha tradito che era quella di fare investimenti nei diritti dei cittadini noi abbiamo la possibilità di realizzarla abbiamo già una squadra pronta votare per noi serve affermare Lega Nord centro-destra Meloni gli alleati di Orban di Alternative Food Deutschland e della Le Pen ma anche cominciare a mettere in pratica finalmente quelle politiche che possano ridare occupazione ai giovani ma soprattutto una prospettiva la sinistra che doveva difendere i lavoratori ha aumentato la precarietà col Jobs Act io sono contento di avere Pasquale Tridico come Ministro del Lavoro perché Pasquale Tridico è un professore che ha smantellato il Jobs Act dimostrando che la precarietà sta danneggiando la crescita economica è il momento di ridare un po' di certezza ai giovani per farsi una famiglia e per avere una prospettiva e non contratti a un giorno o a una settimana ma voi volete ripristinare l'articolo 18 sicuramente va abolito il Jobs Act per come lo conosciamo ma ricordiamoci una cosa che le imprese la stragrande maggioranza delle imprese italiane che è il 95% di imprese italiane che è sotto i 15 dipendenti l'articolo 18 non l'ha mai utilizzato perché non esiste lei pensa di ripristinarlo per gli altri per quelli che prima avevano l'articolo 18 bisogna dare di nuovo garanzia allo stesso tempo io vengo da una famiglia che ha fatto impresa per 30 anni non ci siamo mai divertiti a licenziare e tantomeno quando avevamo bisogno di assumere e non lo facevamo era solo perché era legato al costo del lavoro assumi a 1300 euro netti e ti costa il doppio come datore dobbiamo abbassare il costo del lavoro come ha fatto la Spagna lo ha fatto in deficit ma ha fatto più 3 l'anno in cui ne abbiamo fatto più 1 di Pil importanti esponenti del suo movimento hanno in più occasioni espresso opinioni lusinghiere nei confronti del Venezuela di Maduro non è un mistero che il governo russo guarda con grande interesse attenzione al vostro movimento e negli ultimi giorni due esponenti del suo movimento Fioramonti Prima e Di Stefano Poi si sono detti a favore del boicottaggio dello Stato di Israele ma questo è un pedigree internazionale che stride con la tradizione della Repubblica Italiana che sin dalla nascita è stata sostanzialmente fedela a due alleanze l'Unione Europea e la Nato armonizzando la propria politica estera e di sicurezza all'interno di queste alleanze lei ci può assicurare la fedeltà a queste alleanze occidentali? non solo ne sono non solo ce la posso assicurare ma ne sono fermamente convinto il mio primo viaggio da candidato premier del Movimento 5 Stelle è stato proprio al Dipartimento di Stato negli Stati Uniti dove ho spiegato chiaramente che la nostra volontà è quella di restare nella Nato e di restare nell'alleanza occidentale poi pensiamo per esempio che sulle spese militari da incrementare bisogna capire perché noi abbiamo già dato tanto in spese nella missione in Iraq e in Afghanistan e quando ho scelto Elisabetta Trenta e Emanuela Del Re per Ministero della Difesa e Ministero degli Esteri ci siamo detti chiaramente queste cose Elisabetta Trenta ha lavorato con il nostro contingente sia in Iraq che in Libano conosce il valore delle nostre truppe e sa benissimo quale spesa militare serva e quale bisognerebbe abbassare e nello stesso piano Cottarelli che era il piano di spending review si prevedeva di abbassare la spesa militare di 3 miliardi di euro per riportarla nella media dei paesi europei allo stesso modo noi siamo alla metà della media dei paesi europei noi siamo all'1% del PIL e ci chiede di arrivare al 2 noi stiamo parlando no, lì stiamo parlando della Nato stiamo parlando di quello che ci chiede Trump per la Nato io su quello dico e sono sicuro e sono pronto a scommettere che Gentiloni la pensa allo stesso modo il tema vero è che in quello 0,8 in più che ci chiedono gli Stati Uniti nell'ambito dell'alleanza del patto atlantico di spesa militare faremo rientrare le missioni che abbiamo fatto all'estero che per noi devono figurare già come spesa militare e non come spese straordinarie quindi le basi della Nato e il nostro impegno nelle missioni all'estero sono confermate? certo poi sarà molto interessante affrontare più che altro una serie di dossier per esempio noi abbiamo sempre detto che vogliamo ritirare le truppe dall'Afghanistan ma in questo momento anche Gentiloni ha tolto una parte di truppe dall'Afghanistan per portarle in altri scenari perché tutti stanno realizzando quello che abbiamo detto in questi anni per esempio anche lei ovviamente scrive per un giornale storicamente di Torino sulla Tav in Val di Susa negli ultimi giorni abbiamo ascoltato il governo dire ci rendiamo conto che è inutile ma la facciamo lo stesso perché sono cambiati i flussi merci da quando è stata progettata ad oggi ovviamente il tema Nato è più complesso ma noi chiediamo una parlamentarizzazione delle scelte Nato per quanto riguarda il nostro paese chiediamo che significa significa che quando bisognerà prendere delle scelte importanti negli scenari internazionali non li può prendere solo il Presidente del Consiglio ma ci deve essere un coinvolgimento dal punto di vista istituzionale dell'arco parlamentare per decisioni importanti forse se quella decisione sulla Libia la si fosse presa in Parlamento sarebbe stata più responsabilizzata l'Assemblea parlamentare nel non fare quella scelta lì allo stesso modo voglio dire un'ultima cosa dico che dal punto di vista delle missioni all'estero non c'è un pregiudizio la missione in Libano a guida italiana è stato un orgoglio italiano quindi non è che non si vogliano fare missioni all'estero però dobbiamo capire quali sono d'aiuto e quali sono d'occupazione per noi l'Afghanistan è una guerra che è già durata troppo e dobbiamo ritirarci si al capo del governo chi incontrerà prima Trump o Putin? sicuramente chi me lo chiederà ma spero che possa essere il Presidente a chi farà la prima lesca spero che possano essere gli Stati Uniti perché noi con gli Stati Uniti dobbiamo avviare dei trattati dicevo chi me lo chiederà nel senso che se ci sono delle occasioni di meeting internazionali io ovviamente non posso dire no ci mancherebbe è chiaro ma detto questo tra gli Stati Uniti e la Russia uno dei primi viaggi da fare secondo me è prima di tutto a Bruxelles dove dobbiamo cominciare ad andare a mettere tende in senso figurato non in senso di occupazione in senso figurato perché noi la partita europea non l'abbiamo mai giocata non so se lo sapete ma il Parlamento tedesco ha 45 funzionari a Bruxelles noi ne abbiamo due e uno deve andare in pensione quest'anno noi non abbiamo mai schierato neanche la squadra in campo loro giocano con 11 giocatori noi con mezzo portiere e pretendiamo che la Germania non debba vincere le partite è logico che le vince noi non abbiamo mai giocato Fontana? Volevo tornare un attimo ai temi dell'economia perché io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Vespa leggendo mettendo insieme quello che c'è scritto nel vostro programma e quello che hanno detto i vostri neo incaricati ministri ne esce qualcosa molto molto di sinistra di una sinistra anzi abbastanza estrema intanto via la riforma del Jobs Act via la riforma Fornero meno privatizzazioni anzi quasi blocco delle privatizzazioni una riforma fiscale in cui si dice si adombra non è detto chiaramente una specie di patrimoniale mancato rispetto dei vincoli deficit PIL io le dico ma dove si trovano con un debito pubblico così enorme che dovremmo anche ridurre secondo impegni europei non vi pare di star vendendo qualcosa che è realizzabile poi come in altre situazioni la dura realtà come è accaduta a Roma diventa più forte delle buone intenzioni intanto Roma da quando la governiamo non ha aumentato di un euro il debito pubblico della città invece ne hanno creati 20 quelli di prima e con il piano delle organizzazioni delle partecipate siamo passati da 23 partecipate a 11 un primo punto del nostro programma importante è proprio rivolto alle imprese eliminazione di tutte quelle leggi che non servono che dovevano combattere gli evasori e invece stanno combattendo la gente onesta split payment redditometro spesometro e le assicuro qui che non ci sarà mai nessuna patrimoniale e nessuna tassa di successione perché io le ritengo illiberali ma in contraddizione con la politica dei suoi ministri ma non hanno mai parlato guardi i ministri che io ho candidato dovranno attenersi a un programma e con questi ministri molti parlano dei cento giorni dei primi cento giorni di governo io le dico che cosa faremo entro il primo anno di governo le voglio dire cinque cose che entro un anno di governo del Movimento 5 Stelle si faranno la prima 30 miliardi di euro di sprechi che possiamo recuperare dalla spending review in un anno con parlamentari che non guadagnano più gli stessi soldi ovvero dimezzamento degli stipendi parlamentari eliminazione dei vitalizi e mai più auto blu il secondo punto e con questo ci fa quattro soldi nessuna è un fatto etico ma ci fa quattro soldi fanno parte del piano di spending review ma non sono tutti i 30 miliardi i 30 miliardi sono il piano Cottarelli di cui non ho parlato io ma hanno parlato gli altri secondo punto 780 euro al mese sarà la soglia al di sopra della quale vivranno tutti i cittadini italiani pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza che significa che se sei una famiglia vivrai con non meno di 1650 euro se sei da solo 780 euro mi faccio concludere se può la ringrazio il terzo punto i giovani non dovranno mai più subire un'umiliazione dai centri per l'impiego li riformeremo in modo tale che non si dovrà più cercare lavoro con raccomandazioni oppure mandando curriculum in tutta Italia quarto punto è quello che dicevo prima eliminazione di leggi illiberali studi di settore split payment redditometro e spesometro e il quinto punto la sanità toglieremo la possibilità la politica di nominare i manager della sanità e elimineremo le liste d'attesa che oggi servono solo a favorire la sanità privata questo è il nostro punto 5 punti nel prossimo anno ci rivediamo qui tra un anno spero al governo per poter vedere se abbiamo fatto tutto mi leggo al secondo e al terzo punto ora ne sa che purtroppo poche famiglie non poche insomma non tantissime famiglie italiane possono mettere con due figli insieme 1638 euro quello che le promette è chiaro che se una persona disoccupata prende 1638 euro ma come già le dissi un'altra volta lei deve mandare le parti speciali carabinieri per portarli a lavorare e mi leggo lei dice no perché lo saranno costretti a lavorare perché se no perdono tutto ma siccome i centri per l'impiego come lei ha detto nel terzo punto sono assolutamente inefficienti prima che lei riesca a mettere in piedi dei centri dell'impiego così funzionali così perfetti che è quello appena visto 1638 euro si trova sulla porta un signore dice vieni qua vieni a lavorare eh altro che un anno noi prima infatti è una questione metodologica prima rifondiamo neanche le strutturiamo rifondiamo i centri per l'impiego mettiamo in moto la macchina qui non gliela subito i soldi prima deve esistare io le ho detto entro il primo anno di governo e se noi rifondiamo i centri per l'impiego una persona che va a un centro per l'impiego trova un centro per l'impiego e finalmente inizia ad incrociare la domanda e l'offerta mettendo insieme la domanda e l'offerta abbiamo finalmente la possibilità di proporre i lavori che ci sono non quelli della tua vita dei tuoi sogni alle persone che percepiscono un reddito non per non fare nulla il nostro è un reddito condizionato che significa tu prendi un reddito ma mi dai otto ore lavorative gratuita a settimana per il tuo sindaco e secondo ti devi formare per i lavori che mi servono poi ti faccio tre proposte di lavoro se non le accetti perdi il reddito se le accetti perdi il reddito perché entri nel mondo del lavoro e contestualmente a questa manovra c'è la pensione di cittadinanza i nuovi poveri sono i pensionati se andiamo ad una mensa come Pane Quotidiano a Milano vi diranno che il 70% degli italiani che vanno lì sono pensionati una pensione minima non deve stare sotto la soglia di povertà relativa che è 780 tutta sta roba costa 17 miliardi di euro io prima le ho citato 30 miliardi di euro da spending review 20 dai tagli delle detrazioni a banche petrolio e carbone e un po' di deficit per fare gli investimenti espansivi abbiamo le risorse per fare quello che serve con una doppia faccia poco conciliabile da un lato lei ha degli economisti di sinistra che tendono ma non sono di sinistra prima il direttore ha citato dei provvedimenti che i nostri ministri vogliono eliminare quei provvedimenti li ha fatti la sinistra non li ha fatti la destra quindi qui stiamo parlando di proposte di buon senso dall'altro lato è ultra liberista quindi via gli studi di settore via il redditometro eccetera che sembrano proposte diciamo di destra esattamente insomma chi siete voi altri? ma lei me lo ha chiesto per 5 anni in questo studio arriviamo qui dopo 5 anni io le ho risposto sempre allo stesso fondo io sono un po' tardo però ancora non l'ho capito non mi permetterei mai dottor Vesco non l'ho capito il movimento 5 stelle ha superato questo blocco destra-sinistra perché la sinistra doveva difendere gli operai e ha volito l'articolo 18 la destra doveva difendere le imprese ha fatto gli studi di settore e ha massacrato le imprese con Equitalia qui dentro in questo movimento che è la prima forza politica del paese ci sono tutti coloro che hanno smesso di credere ai partiti di destra e di sinistra perché non la rappresentano più la destra e la sinistra solo una domanda è una battuta lei ha citato Roma ma onestamente lei pensa che Roma si è amministrata bene in questo momento noi come abbiamo sempre detto ci siamo presi la responsabilità di rimettere a posto una città lo vogliamo fare ci prendiamo anche tutte le critiche e lo state fare credo penso che abbiamo iniziato sul binario giusto per iniziare a cambiare una città che per 30 anni è stata massacrata tutti i cittadini hanno il diritto di criticare gli unici che secondo me dovrebbero stare zitti e quelli che ce l'hanno consegnato in queste condizioni lo scontento in Italia del quale il vostro movimento si giova senza nessun dubbio ha due grandi origini le diseguaglianze e l'immigrazione le diseguaglianze secondo i dati dell'Istat non sono solamente un problema di reddito e anche una carenza di attese di speranza di prospettive nell'ultima estate 5 milioni di italiani non sono andati in vacanza i migranti il problema non è solamente fermare gli sbacchi come obiettivamente questo governo uscente ha fatto ma anche integrarli ecco sul fronte della lotta della lotta alle diseguaglianze l'integrazione dei migranti quali sono le vostre proposte sulla lotta alle diseguaglianze noi siamo in un paese in cui l'1% della popolazione è il 25% della ricchezza nazionale e non sono i ricchi quelli non c'è nulla di male ad essere ricco qui stiamo parlando di un'elite privilegiata che è stata favorita con legge ad personam finanziamenti che non meritava l'altro 99% degli italiani sono i destinatari delle nostre politiche che passano per strumenti come quello della pensione di cittadinanza di reinserimento lavorativo con uno strumento di sostegno al reddito ma anche con una sanità più equa oggi 13 milioni di italiani non possono più curarsi per difficoltà economiche è anche per questo che ho voluto riporre come ministro della salute un ospedaliero scienziato che ha fatto delle scoperte a livello internazionale ma sta sempre ogni giorno nei reparti a lavorare deve conoscere i problemi delle aziende ospedaliere quelle del Lazio poi sono in condizioni veramente delicate detto questo sull'immigrazione la questione è ancora più complessa perché si rischia la bomba sociale le disuguaglianze tra gli italiani e il fenomeno fuori controllo dell'immigrazione come lo gestite? perché lì state sempre un po' prudenti voi sull'immigrazione ma più che altro io non ho mai risolto questo tema in uno slogan aiutiamoli tutti lì o portiamoli tutti qui un grande problema è prima di tutto quando arrivano l'Italia impiega due anni per capire quella persona da dove viene se può stare qui o deve tornare indietro quindi la prima cosa da fare è accorciare i tempi in due mesi dobbiamo fare delle assunzioni di italiani nelle cosiddette commissioni territoriali che fanno i controlli su chi viene e quelli che ci stanno? quelli che ci stanno una volta che abbiamo capito se possono o non possono stare qui dobbiamo fare due cose chi può stare qui che è una minima parte può stare qui e viene accolto in strutture pubbliche non in cooperative alberghi che si stanno arricchendo col business dell'immigrazione chi non può stare qui dobbiamo fare dei trattati con i paesi di provenienza per i rimpatri per farli dobbiamo mettere soldi nella cooperazione allo sviluppo l'ho detto a Emanuela Der Rey la nostra candidata a ministra degli esteri dobbiamo prendere relazioni con quei paesi utilizzare i soldi che oggi finiscono in cooperative alberghi circa 5 miliardi di euro all'anno in Italia e fare progetti di cooperazione allo sviluppo in cambio di un trattato in cui loro ci dicono che tutti i loro connazionali che vengono in Italia li rimpatriamo nei loro paesi bene grazie a Luigi grazie per aver stato con noi in bocca al lupo viva che prima in quale veste l'articolio di nuovo a poco a poco grazie bene